Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Allora, signorina Bruscia, prego. Sì, mamma, ci divertiamo. Allora, vogliamo cortesemente parlare dell'immigrazione legata al lavoro. È un argomento che... Chi lo ricorda? Ma che cosa significa chi se lo ricorda? Non solamente che gli italiani sono andati in America e basta. Allora, partiamo proprio da quello che le ha detto. È così divertente questa situazione. Dei suoi compatrioti che sono costretti a lasciare la propria famiglia in cerca di lavoro, ed è divertente. Mi dispiace per loro, che ci posso fare io? Sicuramente potrebbe conoscere un po' di più l'argomento. No, perché non mi interessa. Non le interessa. Vabbè, non mi potete mettere un po' di basta fino a qua, perché non ci spacciate. Signorina, quando decido che lei può andare a posto e io mi ritengo soddisfatta relativamente alla verifica, lei andrà a posto. Io ho un atteggiamento così irrispettoso. Cosa fa, mi scimmiota? Ma un po' di contegno! Ce l'ha un po' di contegno! No! Ma guarda, sa cosa le dico? Ora si va a fare una bella passeggiata. Così può ridere quando vuole con un 2. Grazie! E lo recupererà riportando, copiata, tutto l'argomento sul quaderno. L'importante è sperarci. Eh, questa scema non mi ha dato fuori perché... perché io non sapevo l'argomento. Non mi interessa di quello che pensa. Questa. Questa fake petolicchio qua. Questa.